200 lire commemorative, quotazione 2024. La prima emessa, è del 1980, Fao Montessori, al dritto, Maria Montessori, pedagogista, educatrice e medico italiana, al rovescio, con il tema Fao, la valorizzazione della donna, una donna seduta con il proprio bambino. 1981, Fao Villa Lubin, al dritto, Villa Lubin, sede dell'Istituto Internazionale di Agricoltura e al rovescio, per la giornata mondiale dell'alimentazione, 16 ottobre, figura femminile che semina con una cornucopia. 1989, Arsenale di Taranto, con al rovescio, veliero davanti a fortificazioni marittime per il centenario dell'arsenale militare marittimo di Taranto. 1990, coniata la 200 lire commemorativa Consiglio di Stato, al rovescio, il palazzo sede del Consiglio, Palazzo Spada. 1992, Filatelia tematica, al rovescio, per l'esposizione mondiale, vele al vento e onde del mare. 1993, Aeronautica militare, dove si vedono i quattro emblemi di quattro squadriglie aeree che si distissero durante la Grande Guerra. 1994, la prima dedicata ai carabinieri, al centro troviamo una granata settecentesca con fiamma, con in basso, un nastro in cui vi è scritto, nei secoli fedele. 1996, 200 lire dedicata alla Guardia di Finanza, al dritto in alto, la sede di Bergamo dell'Accademia della Guardia di Finanza e in basso, la reggia di Caserta, precedente sede, al rovescio, per il centenario, lo stemma del corpo con il motto, neanche spezzata retrocede. 1997, Lega Navale Italiana, con al rovescio, antico veliero stilizzato sopra l'emblema della Lega Navale Italiana. Infine quella del 1999, la seconda dedicata ai carabinieri, con il David di Donatello e la granata settecentesca, per la tutela del patrimonio artistico. Tutte monete comuni e purtroppo, il loro valore non è aumentato, tutte ancora valutate un euro in fior di conio.